ciao da massimo e benvenuti a questo nuovo appuntamento della top ten dance di I love Italo Disco una puntata molto particolare in solitario perché con noi abbiamo Michele Poli DJ appassionato toscano con una top ten con tante tante sorprese a te Michele eccomi qua ciao a tutti io mi chiamo Michele Poli e sono un appassionato di musica dance saluto tutti gli amici della Italo Disco Fan e ringrazio doppiamente l'amico Massimo Martelli primo perché mi sta dando l'opportunità di parlare un po' di me e poi perché grazie a lui grazie a suoi salotti le sue interviste ci ha fatto conoscere tutti i protagonisti della musica dance degli anni 80-90 la mia passione per la musica nasce all'età di 15 anni ascoltando le cassette di Steve Martin e di Riccardo Cioni quando andavo con gli amici in discoteca la prima tappa era sempre la visita della console vedi come lavorava il DJ e la pista e questa era una cosa che a me piaceva molto la svolta ci fu quando un mio compaesano che saluto ciao Mario mi fece mettere le mani per la prima volta sui giradischi Tecnis 1200 che erano i giradischi usati in tutte le discoteche e da lì senti una forte attrazione per questi giradischi che finì che le comprai anche se era una spesa abbastanza grossa ma sacrificai un'estate perché a quel tempo studiavo sempre e le comprai a 18 anni presi la patente e acquista la macchina quindi ero indipendente e a volte trovassi al posto giusto nel momento giusto fui contattato da un mio amico che lavorava in una discoteca che si chiamava lo splash una discoteca vicino a Volterra dicendomi che lui sarebbe andato a lavorare a Ciucheva e quindi avrebbe avuto piacere che lì ci fossi andato io io con tutta la mia esperienza accettai e presi quest'impegno per questa prima avventura ecco andare a parlare con la responsabile e il sabato e la domenica sera ero lì lì ebbi l'opportunità di conoscere tante persone tra cui un mio amico diciamo un maestro perché diciamo è stata quella persona che mi ha dato delle dritte e con lui la musica era tutta più lineare era più diciamo a livello tecnico era molto molto preparato questa persona è un mio amico che ci sentiamo tutt'oggi si chiama Alessio Vannini in arte Van Alex DJ dove ci siamo confrontati andavo a casa sua lui veniva a casa mia ci scambiavamo dischi è stata una bella esperienza dove mi ha fatto crescere anche come professionalmente diciamo ricordo poi l'estate mi chiamarono al paese per fare due serate e la seconda serata e fui avvicinato da una persona che si presentò dicendo che era il responsabile della discoteca il malandrone e mi chiese se avessi avuto intenzione di andare a lavorare da lui il posto sapevo che il malandrone era una discoteca con una capienza più grossa c'era più molte più persone e accettai e quindi iniziai un'altra nuova avventura al malandrone e questo era mi sembra il 1988 fino al 91 qui ho avuto diciamo tante esperienze il sabato la domenica e i giorni festivi era quando il locale era aperto aperta anche la discoteca quindi mero ritagliato dei delle serate che facevo per gli studenti in diverse discoteche della zona tra cui la pagoda a castelnuovo val di cecina la canneggiola a monte cerboli saline volterra nel monte catini e tante feste di di studenti che si diciamo e che mi hanno contattato per fare delle serate per raccattare due soldi per poi andare in gita diciamo e prima usava a fare anche questo ma era tante persone tanti ragazzi e che è stata anche quella una bella esperienza diciamo il malandrone è stata una bella esperienza tante persone ho conosciuto tante persone e tante storie il bello anche di questo lavoro è che ogni serata avevo una storia a sé e mi piace ricordarle tutte per le belle per le brutte insomma diciamo fino al 91 sono stato lì poi parti militare e quando poi sono tornato perché la mia strada doveva essere quella la carriera militare visto che avevo fatto un anno nell'arma dei carabinieri però poi qualcosa andò storto e ritornai a casa e ritornai lì al malandrone che il locale aveva contattato un altro mio carissimo amico che è andrea giannoni che saluto c'è andrea che era il dj leader malandrone ma diciamo fino al 94 95 e fino al 94 e la discoteca rimase aperta poi chiuse se io ho continuato a comprare dischi fino a mi sembra 95 poi c'era l'avvento della tecnologia quindi lettori i cd quindi diciamo e mi fermai un pochino anche perché poi sposai giorno sposato e diciamo la la vita notturna l'ho un po abbandonata però me era rimasta a casa la voglia e quello non mi è mai passata tanto che negli anni 2000 2005 2006 ho riniziato con un diciamo con due lettori che avevo sempre odiato perché erano molto freddi e due lettori della della paione e avevo riniziato piano piano a vedere un pochino anche le differenze ma non i giradischi è sempre stato l'amore primario fino a che non mi hanno sentito in una giornata una serata è fatta tra amici ma perché non vieni così ho riniziato da una serata poi si passa ad altre serate diciottesimi poi si scambiavano la voce e quindi mi sono ritrovato a rifare a riniziare a fare le serate però no con i giradischi ma con i lettori cdj e a volte anche il computer questo è fino ad oggi oggi ecco l'unica cosa che mi che mi rimane è che ho riniziato a ricomprare dischi che non avevo né negli anni 80 90 perché magari o si perdevano me le rubavano usava così rimanevano nella borsa degli altri e quindi ho riniziato a comprare i dischi e mi sono messo a rifare delle selezioni come facevo negli anni 90 80 90 e tanto che decisi una volta per scherzo di fare un video così come sto facendo ora di una selezione è mixata con il vinile e questo devo dire che ha avuto tanto successo ho avuto contatti richieste di consigli confronti e è stata una cosa talmente bella che ho intenzione di continuare con le selezioni anni 80 anni 90 anni 2000 quindi ho aperto un canale che è totalmente gratuito e è gradita l'iscrizione a chi lo vuol vedere chi voglia sentire un po di musica e niente di che la mia moneta non sono gli sponsor ma la mia moneta sono i commenti like che lasciano chi viene e che si diverte ecco ricevo tanti commenti tanti complimenti e a volte anche aiuti qualcuno mi chiede dei consigli e sono ebbene sono ben accetti è questo che mi gratifica la mente dei soldi in questo caso non mi interessa bene spero che qualcuno sia rimasto sveglio e faccio la mia top ten test perché poi in fondo è questo che massimo mi chiedeva sono un po dilungato e bene faccio parola veloce allora si comincia subito col numero 10 è un brano del 1985 che è questo albert one e heart on fire questo è un brano particolare perché se riuscite a leggere qui questo è un disco stampato al contrario ovvero dal centro parte verso l'esterno è un disco che era la prima volta anch'io che vedevo quindi albertone il grande albert one alberto carpani poi sempre il 1985 numero 9 ci sono loro diamond e via verdi è un qualcosa che mi lega al passato perché questo era un brano che ricordavo sempre volentieri poi siamo al no ottavo ottavo brano che è questo so se si vede dottor martini io ad one un grandissimo pezzo che a me piace molto e mi piace anche metterlo spesso nelle selezione lo metto poi un altro che mi piaceva mixare era questo thompson twins è del 1985 questo numero 7 poi numero 6 sempre 1985 mattia bazar la versione in italiano sempre messo questa perché mi piace questa perché mi piace questa poi sempre 1985 che poi era l'inizio i miei inizi c'è lui ben brusse versione questa era indicata soprattutto per inizio serata con una con un inizio eccezionale sempre piaciuto questo brano poi quarto posto c'ho questo vision everybody questa è la versione remix consiglio consiglio la parte 2 remix parte 2 molto bella c'è un'introduzione eccezionale il resto sarà questa in una delle mie selezioni poi numero 3 1284 c'è lei laura braniga la versione self control dice è nata prima quella di di raffe o di lei prima è nata quella di raffe e poi almeno credo non ci scommetto però numero 2 numero 2 c'è martinelli con le firme originali di aldo martinelli e simona zanini conosciute sono persone fantastiche veramente di una dolcezza incredibile l'avrei messo al primo posto ma è e sono belle tutte guarda sinceramente ci ripenso mi riviene il brivido perché sono due persone disponibilissime e eccezionali primo posto per per amore e passione che mi trasmette una tranquillità questa canzone survival di my francis ok questa è la mia top 10 per quanto riguarda l'italo disco io vi ringrazio se c'è qualcuno sempre sveglio che riguardi dall'inizio saluto tutti gli amici passate a trovarmi nel canale tanto se vi piace guardate se no andate oltre e ringrazio massimo l'ho fatto un po penare ma ce l'ho fatta ciao a tutti vi saluto ciao grazie michele grazie veramente del tuo contributo una top 10 dance straordinaria ti ringrazio di cuore io aspetto però la vostra top 10 dance perché è importante perché un contributo del genere aiuta la nostra musica da discoteca che noi amiamo ma soprattutto è un contributo importante per tutti gli appassionati e i fan della dance italiana e aspetto allora il tuo contributo ringrazio di nuovo michele e alla prossima top 10 dance ciao da massimo viva la musica la musica è vita soprattutto in vinile ciao